il video è offerto da auto e passa il pallone per minincleri entra in area di rigore appoggia per varuti varuti può metterla dentro l'appoggia per minincleri minincleri si muove minincleri ed è subito 1 a 0 per la pista di ieri c'è chi buona la giocata per de angelis la botta del puma de angelis parla in calcio d'angolo però sinale di rigore attenzione la palla passa ecco la battuta la palla passa sambo non la blocca ed è con l'uno a uno attenzione la battuta dentro la palla resta lì ancora arbitra fischiato brava marco de angelis la palla sul fondo di un metro resta lì pallone per toledo che va al cross stacca de angelis c'è la deviazione cerca di difendere sto pallone ci riesce serve toledo che resiste all'attacco dell'avversario può andare al cross eccolo per minincleri la deviazione di testa la palla sul fondo mette il pallone dentro de angelis non ci arriva c'è varuti varuti mette il pallone dentro attenzione buona la giocata da parte di alfonsi ancora lui poi il pallone tiro e sambo in calcio d'angolo dentro il pallone il colpo di testa la palla fuori scoto ledo va fino in fondo prova a metterla dentro chiuso poi arriva Belli pensa al tiro Belli in sant'agostino a pistoia palmucci le migliori auto le migliori offerte palmucci via umberto mariotti zona industriale sant'agostino a pistoia www.palmucci.it con alfonsi la gran battuta rete che gol di alfonsi è 2 a 1 guarda Iuri con che velocità Varuti perfetto alla rimessa per nocentini palla verso giovanelli poi puglio pressato va a lancio a cercare bigoni controllo di bigoni cerca di giocarla arriva al pallone a Belli che lascia partire un gran tiro palla in calcio d'angolo ecco la battuta da parte di mininclari sul secondo palo buglio l'appoggia c'è il tocco di mano palla e resta lì Peluso! 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 2 a 2 ancora Varuti prova la giocata e riesce Bavaruti in slalom allarga verso Belli è buono il pallone può crossarla sul secondo palo la tocca al portiere bigoni palla lì mininclari no! finisce qua è 2 a 2 tra Ostiamare e Pistoiese in pieno centro storico a Pistoia alimentari Marco e Federica orario continuato dalle 7 alle 20 dal lunedì al sabato ampissima gamma di prodotti compresi cibi per animali e tutti gli articoli per la pulizia e l'igiene vieni a trovarci alimentari Marco e Federica via della provvidenza 35 Pistoia non 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 non